Ecco alcune informazioni sull'utilità dell'abbonamento al canale YouTube. Intanto il canale lo trovate a questo indirizzo, la possibilità di ricevere informazioni e avete tre livelli di abbonamento. Un livello base, direi basilare, un livello avanzato e il livello professionale, quello consigliato che contiene tutta la documentazione e tutti i video che produco. Ci sono istruzioni direttamente da Google su come fare ad abbonarsi. La piattaforma è gestita direttamente da Google, quindi ogni informazione su carta di credito o altri aspetti tecnici possono essere ricercate attraverso il sito internet di YouTube. Il livello base ovviamente contiene alcuni elementi essenziali. Le informazioni, aggiornamento, alcuni video e anche un corso dedicato. Quindi già a questo livello si ottiene molto materiale che in rapporto al prezzo, 1,99€ al mese, è significativamente importante. Magari può essere utilizzato come introduzione per vedere cosa c'è e cosa non c'è a disposizione. Nel livello avanzato invece ho altri video, in particolare la sequenza dei 10 minuti di, quindi video di approfondimento specifici che illustrano alcuni concetti in maniera più puntuale. Ho degli streaming in diretta riservati e materiale che è riservato soltanto a questo livello o a livello superiore. Ovviamente chi ha il livello avanzato ha anche tutto il materiale che è compreso nel livello base. Stessa cosa per il livello professionale che comprende tutto ciò che è nel livello base e nel livello avanzato a cui si aggiungono tutti i video prodotti. In particolare il progetto 20 minuti di, i primi 20 minuti di tutte le lezioni che vado a videoregistrare, in modo tale da avere la sequenza completa. Quindi significa quasi un video a disposizione al giorno, oltre a dirette streaming dedicate e a promozioni e sconti riservati a livello professionale, che è il livello sicuramente al quale approderete se avete necessità di aggiornamento. Ad esempio già oggi sono tutti questi video a disposizione. Vi dicevo i 20 minuti di, intere lezioni, interi corsi con durata di un'ora, due ore, tre ore, che contengono sia lezioni di formazione già svolte su altre piattaforme, sia attività di formazione e di aggiornamento specificamente dedicate agli abbonati. Quindi trovate a questo indirizzo anche l'indirizzo per ricercare il materiale a disposizione, vi dicevo come in questo caso un esempio di una lezione integrale, e maggiori informazioni al link e anche alla mia pagina Facebook. Vi ringrazio, vi saluto e spero di vedervi sul mio canale. A presto!